In estate per il momento da incorniciare per il settore alberghiero e quello del commercio in Alto Adige. Non è solo Bolzano a registrare un grande afflusso di turisti, ma anche le altre zone della provincia autonoma stanno riscuotendo ottimi risultati. Noi siamo stati a Bressanone, in Val di Sarco, dove i dati per il momento raccolti sono più che positivi. Tutto l'anno, visto dal gennaio fino adesso, abbiamo fatto un più di 4% nei arrivi e anche nei pernotamenti. Siamo abbastanza contenti, ma soprattutto il luglio è andato benissimo con 16% più arrivi e 10% più pernotamenti. L'agosto ancora non si sanno ancora esattamente le cifre, comunque vorrei dire che finora siamo contenti, anche se non è tutto strapieno. Ad influire e permettere di registrare questi risultati ovviamente è il bel tempo, ma anche e soprattutto l'offerta turistica, molto apprezzata da chi ha scelto e sceglie di trascorrere un periodo di vacanza in Alto Adige. E non c'è una classifica delle strutture più o meno gettonate. Soprattutto gli appartamenti hanno un pieno, completamente pieno, invece le stanze e gli alberghi sono un po' misto. La qualità degli alberghi naturalmente conta tanto. Però anche le due stelle sono abbastanza ben frequentuate. Rispetto a Bolzano, dove la provenienza dei turisti è diversificata, si va infatti dalla Germania alla Russia, passando per Francia, Spagna e i paesi dell'est, a Bressanone si registrano più turisti italiani. Noi, gran parte degli ospiti a Bressanone sono italiani. Questo è un ospite molto molto importante e fedele. Anche quello tedesco avrà il 40% circa. Poi ci sono svizzeri sempre di più, austriaci un po' meno, ma tutto misto abbiamo. Comunque la gran parte è di Marta Ningo italiana.